la c in italiano può avere un suono duro o gutturale oppure un suono dolce detto anche palatale questo suono varia a seconda della vocale o consonante che segue la c avremo dunque la c dura o gutturale quando è seguita dalle vocali a o u facciamo qualche esempio cadere cane carciofo casa collina collo corvo cosa culla cuore curiosità curvo scusa amico avremo la c dura o gutturale anche quando è seguita da un'altra consonante oppure si trova in fine di parola qualche esempio aracnide che poi sarebbe un ragno tecnica autoctono basic avremo invece la c dolce o palatale quando è seguita da una e o da una i gli esempi sono celeste cena pace cima ciao città attenzione però se è presente la lettera h subito dopo la c il suono diventa duro continua a studiare su dizione punto it scarica le prime lezioni gratis e migliora la tua voce dizione punto it il sito della dizione italiana ciao 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 ciao